Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come vedete con i Tinseltown Tarot e ovviamente anche con gli oracoli delle carte del cuore di Isabel Serre. Che cosa andremo a chiedere quest'oggi sia agli oracoli che ovviamente all'intero mazzo di tarocchi? Chi saprà conquistare il mio cuore ma anche appassionare il mio corpo? Ovviamente questa è una stesa ragazze assolutamente valida per chiunque di voi abbia bisogno di stimoli nuovi. Quindi a prescindere che voi siate o meno impegnate. D'accordo? Prima di tutto perché ovviamente una persona può essere anche impegnata magari anche da tanto tempo ma essere ovviamente infelice, non più appagata, non più soddisfatta e quindi aspettare o cercare qualcosa che possa invece risvegliare il proprio cuore, i propri sentimenti e anche la propria passione. E poi ovviamente in secondo luogo perché sapete perfettamente che ciascuno vive la propria situazione in modo assolutamente proprio e personale con le proprie difficoltà, le proprie contrarietà, la propria sofferenza e le proprie criticità. Quindi non spetta a nessuno giudicare le scelte o la vita di un'altra persona. Qui non siamo per fare del moralismo o dell'ipocrisia. Di conseguenza questa stesa vale anche per una persona impegnata che ha tutto il diritto di cercare la propria felicità nel caso in cui stia vivendo una storia infelice. Di conseguenza utilizzerò appunto questo mazzo che ci riporta al fasto meraviglioso della cinematografia degli anni 50-60 di Tinselstown Tarot e ovviamente ci faremo anche aiutare dagli oracoli, da questo mazzo molto particolare di oracoli, delle carte del cuore di Isabelle Serv che ci dà una mano per comprendere eventualmente dove, come, quando conoscerete questa nuova persona o magari anche queste nuove persone che sapranno appunto conquistare o saprà conquistare il vostro cuore e ridarà vigore al vostro corpo. Io utilizzerò il metodo degli otto arcani, o sette più uno, come dico sempre io, dove il più uno sta appunto per il consiglio che vi viene offerto appunto dagli arcani e successivamente, a fine stesa, utilizzerò appunto gli oracoli per dare una visione più completa e più precisa alla stesa stessa. Dunque, momentaneamente, ma solo momentaneamente, allontano ovviamente dal tavolo di stesa gli oracoli per lasciare spazio appunto alla stesa degli arcani maggiori e minori e dunque per il principio di sincronicità per chiunque si imbatta per scelta o casualmente in questo video e che abbia bisogno di un nuovo incontro che gli possa ridare vita da un punto di vista emotivo, sentimentale e anche fisico, perché no, passionale ed erotico, cerchiamo di capire se arriverà questo incontro, quando, ovviamente, e con chi. Quindi, cercando però anche di capire se nel presente c'è eventualmente qualche elemento favorevole o anche magari qualche elemento di disturbo, quindi qualche rivale, qualche nemico, qualche situazione che possa ostacolare. Cerchiamo di capire anche il vostro ambiente, l'ambiente che vi circonda, se può in qualche modo favorire un nuovo incontro, fare da tramite oppure invece appunto creare un blocco. Quindi cerchiamo di porre attenzione, focus importante sul presente e ovviamente per arrivare ad un'analisi più precisa in riferimento al futuro. Vediamo un po'. Perfetto. Allora. 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 Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, io metto momentaneamente in questa posizione appunto il mazzo. Dunque, iniziamo appunto con la prima posizione, ossia appunto il presente della situazione. Cerchiamo dunque di capire se c'è qualcuno di interessante oppure se ci vengono già delineati degli elementi di ostacolo. Vediamo un po' quindi il presente nella vostra situazione sentimentale. E qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, il 5 di coppe ci parla sicuramente sì di persone che obiettivamente sono molto attratte da voi. Perché il 5 di coppe ci parla di una positività e di un grande successo da un punto di vista appunto pratico, carnale, erotico. Quindi, voi siete molto ammirate, siete molto desiderate da un punto di vista fisico. Quindi, c'è sicuramente qualcuno a cui voi piacete molto. Qualcuno che prova molta attrazione per voi. Qualcuno che vi reputa sicuramente una bella donna. Qualcuno che vi desidera. Anzi, vi direi più di una persona. Molto propensa ad iniziare una storia con voi. Che tipo di storia però? Una storia carnalmente e fisicamente molto passionale, ma sentimentalmente non pulita. Il 5 di coppe parla infatti di rapporti o extraconiugali o comunque di persone, diciamo, allergiche ai rapporti stabili. Quindi, personaggi che non amano particolarmente dedicarsi ad una sola persona. Persone che, diciamo, non hanno la monogamia come grande ideale sentimentale. D'accordo? Quindi, persone che amano molto essere corteggiate, corteggiare. Amano la seduzione. Amano vivere anche quel brivido. Quel rischio. Quell'azzardo. Che gli dà adrenalina. Che gli fa sentire virili. Ma poi, da un punto sentimentale, qui c'è poco. Perché, vi ripeto, il 5 di coppe ha successo da un punto di vista materiale, ma da un punto di vista sentimentale non c'è quasi nulla. Questo, ovviamente, vi ha deluso. Perché, vi ripeto, il 5 di coppe ci parla di delusioni sentimentali. Cioè, se stiamo cercando l'amore, quindi i sentimenti, il romanticismo, con il 5 di coppe non c'è. Cioè, nel vostro presente, in questo momento, cioè nel momento in cui voi andrete a guardare questa stesa, non ci sono persone che vi ispirano amore o che provano amore per voi. O comunque persone che, pur provando sicuramente delle emozioni, hanno intenzione però di approfondirle. Perché non hanno intenzione di approfondirle? Per svariate motivazioni. O perché sono persone poco abbezze ai sentimenti importanti, ai legami stabili, durature e fedeli. Oppure, perché sono persone sposate, finanzate, quindi già impegnate, ma che non hanno nessuna intenzione, almeno nel presente, di lasciare la compagna ufficiale. Quindi, sicuramente siete circondate, vi ripeto, a mio avviso, da più di una persona che è attratta da voi. 5 di coppe. 6 di coppe. Questo sicuramente. Attirate la fantasia, l'immaginazione da parte di molte persone. Ma, tra queste molte persone, non ci sono grandi sentimenti nei vostri confronti, ovviamente anche vicendevolmente. Cioè, anche voi non vi sentite sentimentalmente pronte per iniziare una storia con anche solo una di queste persone. Perché c'è sempre qualcosa di queste persone, di queste situazioni, che vi insospettiscono, che non vi piacciono, che non vi danno stabilità, non vi danno fiducia. Perché il 5 di coppe, vi ripeto, ci parla di qualcosa che manca. E questo qualcosa è proprio nei sentimenti. Quindi, non ritrovate in queste persone una reale volontà nel costruire una storia. Ecco perché potreste, per esempio, con la carta del 5 di coppe, avere una storia, magari sfilacciata, che vi portate dietro dal passato. O una frequentazione con una persona impegnata. O voi potreste essere una persona impegnata, che ha delle conoscenze, delle amicizie, con altre persone. Ma vi siete rese conto che questi rapporti sono inutili, inconcludenti. A volte anche troppo rischiosi, a volte anche troppo dannosi. Quindi, situazioni che risultano inconcludenti, che vi creano conflittualità, perché le carte di grado 5 ci parlano sempre di conflitti, con l'esterno e con l'interno, quindi conflitti anche interiori, insoddisfazioni, frustrazioni. Quindi, rapporti superficiali, unioni poco romantiche, poco affettuose, con persone generalmente egoiste e un po' distaccate, se non da un punto di vista fisico, dove li danno il massimo. Persone che non sono in grado di prendere una posizione, di decidere, di scegliere. Quindi, possono crearsi delle incomprensioni, anche dei litigi, delle contestazioni. Quindi, momenti di sacrificio e di attesa. Questo è il quadro del vostro presente, cioè siete circondate da persone che sono disposte a dare poco. Quindi il problema non è un problema interiore vostro, cioè non siete voi che state rifiutando l'amore, che avete delle chiusure particolari. Sono le persone che vi circondano, sono semplicemente persone sbagliate, che in questo momento, evidentemente, non sono pronte a darvi quel qualcosa che voi potreste volere. Capita nella vita di ciascuno di noi di avere dei periodi in cui non si incontra la persona giusta. È capitato anche a me di inanellare più conoscenze che si sono rivelate sbagliate. Con persone che con me, effettivamente, non avevano proprio niente in comune. D'accordo? Quindi, sicuramente, in questo momento, ci sono delle situazioni che vi bloccano. Ma questi blocchi sono portati dagli altri. Quindi da persone, vi ripeto, superficiali, che non amano vivere i rapporti nella totale trasparenza e nell'onestà. Vediamo a questo punto, in questa posizione, i pro della situazione. Cioè gli elementi positivi, invece, presenti nella vostra vita, da un punto di vista sentimentale, nel vostro presente. E qui abbiamo la carta, vedete, della forza. Ve lo dicevo, ragazzi, che qui c'è sicuramente qualcuno a cui voi piacete molto. La carta della forza ci parla di un individuo che è molto attratto da voi e che sta già pensando, carta della forza, di farsi avanti. Quindi di comunicare con voi, di invitarvi, per esempio, ad uscire, o comunque in un incontro, una persona, direi comunque, giovane. Grosso modo la forza ci parla di un'energia che generalmente a livello anagrafico ha tra i 20 e i 40 anni. Una persona influente, una persona che riveste anche un'ottima posizione sociale, una persona magari anche conosciuta, quindi potrebbe far parte del mondo dello spettacolo, oppure un VIP, un attore, una celebrità, un artista, comunque qualcuno che ha un ruolo importante di comando, quindi un capo, un dirigente, una persona magnetica, una persona forte, combattiva, giusta, leale, potrebbe essere un giudice, un avvocato, un notaio, qualcuno che agisce a livello professionale nella convinzione che la legalità sia il suo baluardo di vita, quindi potrebbe far parte delle forze dell'ordine. Ma vi ripeto, anche una persona celebre, conosciuta, o comunque una persona non necessariamente conosciuta a livello internazionale, una persona che comunque, per esempio, nell'ambiente in cui lavorate o in cui vivete, ha un ruolo importante, gli è riconosciuto un ruolo importante. E' una persona che ha generalmente ottima salute, una persona vitale, e fisicamente ovviamente molto piacente, cioè una persona che piace. Ovviamente però parliamo appunto della forza, cioè di una persona che ha un forte carattere determinato, ma è una persona che potrebbe essere anche impegnata, perché la forza ci parla anche di fidanzamento, ci parla anche di matrimonio, ci parla di una persona inserita socialmente in un ambiente, con la consapevolezza quindi di far parte anche, per esempio, di una coppia. Quindi è una persona che in un certo qual modo rappresenta l'onestà, vi ripeto la pudicizia, la legalità, ma che poi si fa trascinare dalla forte carica virile e dal desiderio per un qualcos'altro che possa piacergli molto di più di quello che ha al suo fianco. Quindi è una persona che a volte potrebbe lasciarsi in qualche modo ammaliare, come per esempio nel vostro caso, da un aspetto estetico per lui molto piacente. È una persona che non sa rinunciare ad un'attività fisica pagante e intensa, quasi quotidiana. E nel momento in cui, per esempio, la propria compagna non lo va a soddisfare, è una persona che potrebbe scivolare lungo una china pericolosa, iniziando magari una storia extra coniugale con un'altra donna. Perché, vi ripeto, è una persona che ha la necessità strenua di soddisfare, a pagare i propri bisogni fisici. Quindi ha tanti lati positivi questo individuo, però purtroppo ha, come suo tallone d'Achille, essere innanzitutto una persona molto possessiva, gelosa, guardinga, diffidente, ma nello stesso tempo piuttosto egoista, un po' prepotente, che potrebbe, diciamo, in qualche modo, soccombere ai propri desideri. Cioè, una persona che tende a, sui piatti della bilancia, a dare più peso all'aspetto erotico che sentimentale in un rapporto. Quindi, è una persona che, obiettivamente, nel momento in cui, non si sente appagata, può cercare soddisfacimento presso altri lidi. D'accordo? È una persona che ama molto il benessere fisico, materiale, non economico, eh, ma proprio fisico. Cioè, vuole sentirsi bene fisicamente. Ed è quindi una persona che ama molto il contatto fisico. Ne ha bisogno. E questo potrebbe, appunto, portare questa persona, a volte, a deviare lungo altre strade, pur essendo una persona impegnata. Quindi, mi ripeto, è una persona influente, è una persona caparbia, è una persona intelligente, di spicco, che ha molto successo, esteticamente piacente, ma è anche una persona che potrebbe essere impegnata ed essere in cerca di un'avventura che possa appagare i propri desideri. È chiaro che, però, è una persona molto attratta da voi e che ha tutta l'intenzione di muoversi verso di voi e la forza entro poco tempo. Tra l'altro, la carta della forza è legata al segno del leone e dell'ariete. Quindi, è una persona che conta di muoversi entro pochi giorni, al massimo qualche settimana, che, tra l'altro, sono le tempistiche, appunto, della carta della forza. ovviamente è una persona che cercherà immediatamente un contatto fisico, un incontro, in modo da potervi dimostrare apertamente quello che prova per voi. quindi è una persona che, purtroppo, a volte, non conta fino a cento prima di parlare o agire, perché vive molto di istinto, di impulso, e quindi vuole agire con voi anche in questo modo, ma perché sta impazzendo per voi questa persona? Quindi, è una persona che ha un gran desiderio nei vostri confronti ed è pronta alla lotta, quindi è pronta a fare di tutto pur di conquistarvi. Vi ripeto, è una persona determinata, che ha coraggio da vendere, che ha anche molta fiducia nelle proprie capacità, ha un'autostima alle stelle, è una persona virile, potente, che si sente forte, che si piace e che sa di piacere, ama il rischio, ama la conquista, è una persona abituata a vincere e quindi diciamo che in qualche modo dà già per scontato il fatto che possa comunque vincere anche con voi. Dunque, è chiaro che è sicuramente una persona che vi ripeto entro poco tempo vi darà delle soddisfazioni, però non vi aspettate romanticismo da questa persona, perché, vi ripeto, innanzitutto potrebbe essere impegnata, ma poi è anche una persona che è attratta da voi, non prova sentimenti, non prova emozioni particolari, vuole iniziare a conoscervi, questo sì, quindi siamo ancora in una fase embrionale, ma è comunque una persona determinata, che quindi ha tutte le intenzioni di arrivare a voi, quindi questo è un elemento ovviamente di grande positività, perché comunque è una persona a quale le cose possono iniziare, perché no, magari in sordina o comunque dando molta importanza all'aspetto fisico del rapporto, ma poi possono svilupparsi anche dei sentimenti, può tranquillamente accadere una cosa di questo genere, anche se questa persona possa essere comunque impegnata, perché no, può poi decidere di scegliere, d'accordo, quindi sarà comunque un incontro, una conoscenza o è una persona che già conoscete, che comunque si farà avanti e che vi darà in qualche modo una conferma anche, no, il fatto che voi piaciate molto a questa persona, che possiate conoscere un'altra persona che vi porti anche un po' fuori da questa situazione di 5 di coppa, identificata dal presente, d'accordo? In questa posizione vediamo invece che cosa voi avete nel cuore, quindi paure o comunque desideri, perché no, speranze, sogni, vediamo un po'. E qui abbiamo il 3 di coppe, allora, avete voglia di divertirvi ragazze, Allora, la carta del 3 di coppe ci parla appunto di un sano divertimento, ci parla di festeggiamenti, ci parla di momenti magari anche leggeri, che però in qualche modo possano riportarvi una sorta di sorriso sulle labbra e che possa in qualche modo permettervi di godere di nuovo delle gioie dell'amore che sono fatte anche di quei piccoli momenti di innamoramento, corteggiamento. il 3 di coppe ci parla di inviti, ci parla di notizie, ci parla di uno scambio comunicativo, vi ripeto, anche romantico, scherzoso, giocoso, ci parla di anche incontri, incontri nuovi, ci parla di viaggi, di spostamenti, ci parla di belle notizie, di celebrazioni, vi ripeto, di feste, di novità, di sorprese, di regali, di doni da parte del destino. voi avete bisogno e voglia di ricominciare, vi ripeto, a godere, a godere dei piaceri della vita da un punto di vista fisico, a godere anche della compagnia 3 di coppe di nuove persone. Avete bisogno di un'evoluzione, di uscire da una situazione stagnante, la situazione stagnante del 5 di coppe. Avete bisogno di una risoluzione, le carte di grado 3 rappresentano un'evoluzione che porta al successo. Quindi nel caso in cui per esempio stiate vivendo una storia con una persona impegnata avete voglia di vivervi alla luce del sole questa storia o comunque che questa persona risolva tutte le sue problematiche mettendo fine a questo momento di indecisione. Nel caso in cui siate voi le persone impegnate avete sicuramente la necessità che chiaramente la situazione volga a vostro favore in modo da poter scegliere o ovviamente decidere per una persona più giusta. Avete bisogno anche da un punto di vista fisico di vivere momenti di piacere di grande serenità di superare tutti quei conflitti quegli ostacoli che comunque vi stanno in qualche modo anche un po' avvilendo e stancando avete dei piani per il futuro e avete intenzione di portarli a termine ma cancellando una grande schiacciante vittoria rispetto a tutti gli ostacoli alle difficoltà. È chiaro che il 3D Coppe quindi ci parla vedete di un momento di spensieratezza un momento di svago di risate divertimento con amiche con vi ripeto nuovi conoscenti perché no avete voglia di feste avete voglia di calore avete voglia di fare un viaggio perché le carte di grado 3 rappresentano anche degli spostamenti non necessariamente una crociera di 8 mesi magari anche ma anche semplicemente un weekend avete voglia di quel messaggio in più di quella telefonata in più di quel qualcuno che vi chieda anche semplicemente come stai usciamo a prenderci un caffè trascorriamo una serata piacevole insieme avete voglia di magari una lettera d'amore una dichiarazione una telefonata quella voce che vi possa scaldare il cuore avete voglia di qualcosa di nuovo o comunque di superare finalmente tutte le difficoltà per poter arrivare appunto ad un'evoluzione al compimento e che porti poi ovviamente ad una maggior stabilità quindi in realtà ciò che voi volete è espansione espansione fisica espansione erotica espansione sentimentale avete voglia di raggiungere i vostri obiettivi avete voglia di quell'appuntamento che non sia più annoverabile tra gli appuntamenti mancati progetti in sospeso confusione indecisioni ostacoli e imprevisti che possano arrivare a gamba tesa nei vostri sogni cioè voi avete voglia di sollievo avete bisogno che vada tutto bene perché evidentemente siete molto stanche quindi sicuramente non state cercando un imperatore un papa l'uomo per la vita state cercando sicuramente una persona che però vi alleggerisca da determinati problemi senza caricarvi di suoi avete bisogno di qualcuno che magari vi coagiuvi per esempio nelle vostre difficoltà quotidiane di qualcuno che vi aiuti a svagare la mente rispetto per esempio a delle incombenze a degli impegni che potreste avere voi stesse il tre di coppe ci parla anche della presenza di figli quindi potreste avere anche dei figli di cui occuparvi e queste situazioni vi appesantiscono avreste bisogno di tirare un po' i remi in barca e quindi vivere una situazione più gioiosa vi ripeto di calore di solarità una situazione di maggior svago di maggior leggerezza con persone generalmente nuove perché tre di coppe ci parla di novità quindi effettivamente avete tutte le intenzioni di accantonare di mettere da parte queste persone per iniziare qualcosa di nuovo vediamo appunto in questa posizione invece gli ostacoli veri e propri cioè a chi o cosa prestare in qualche modo particolare attenzione e qui abbiamo il sei di pentacoli guardate ragazze è già chiaro no a chi dovete prestare attenzione alla doppia faccia a persone che promettono e che poi non mantengono persone menzognere persone bugiarde persone che non sanno dare perché vogliono solo ricevere in accezione positiva il sei di pentacoli ci parla di uguaglianza dare e ricevere generosità capacità di decidere discernere contraccambiare un sentimento una progettualità un desiderio in accezione negativa come in questo caso il sei di pentacoli si vede praticamente capovolgere tutti quelli che sono i suoi significati principali quindi sei di pentacoli ci parla di persone non generose persone fortemente egoiste che cercano in qualche modo di trarre un proprio beneficio dal vostro rapporto e dalla vostra conoscenza ve lo dicevo con questo 5 di coppe persone furbe persone bugiarde quindi non oneste persone ingannevoli persone che vogliono solo ricevere ma non vogliono dare persone non eque non giuste vi ripeto persone anche impegnate già impegnate che vogliono diciamo in qualche modo semplicemente interrompere la propria monotonia grazie alla vostra frequentazione alla vostra conoscenza quindi persone vi ripeto inaffidabili in accezione negativa i 6 di pentacoli ci parla vi ripeto di cattivi consigli quindi attenzione anche a delle amicizie sbagliate ma non necessariamente perché vogliono in qualche modo ledere alla vostra vita ma semplicemente perché magari sono persone che pensano di farvi un favore dandovi consigli di grande saggezza ma in realtà non vi stanno aiutando perché poi chiaramente i consigli sono direttamente proporzionali all'esperienza di chi ovviamente li dà ma è ovvio che l'esperienza di una persona è nettamente diversa da quella di un'altra quindi ciò che fa bene ad una persona non necessariamente deve poi poter far bene anche a un'altra persona ragazzi il consiglio è assolutamente personale d'accordo quindi potreste avere delle amiche o degli amici che cercano magari di aiutarvi anche con buon cuore ma dandovi magari dei consigli comunque non appropriati alla vostra vita alla vostra esperienza ma perché la vita è vostra quindi attenzione anche vi ripeto a dei cattivi consigli il 6 di denaro in accezione negativa ci parla anche di fretta quindi persone che agiscono in maniera frettolosa cercando di spingere troppo sull'acceleratore persone che per esempio nel caso in cui voi siate impegnate vogliono e pretendono che voi lasciate subito il vostro compagno ci parla di azzardo ci parla di rischi eccessivi che però non sono commisurati rispetto ai benefici ci parla quindi di situazioni non equilibrate vi ripeto dove in qualche modo le entrate sarebbero inferiori rispetto alle uscite quindi fuori di metafora in cui diciamo gli ostacoli le perplessità e magari anche le sofferenze sarebbero maggiori rispetto vi ripeto ai benefici ci parla di passione ma una passione smodata quindi vi ripeto persone che potrebbero volere da voi soltanto dei momenti di svago uno svago meramente carnale ci parla di gelosia quindi attenzione anche a persone troppo possessive a persone troppo gelose mi raccomando quindi prestate bene attenzione a dei segnali anche più piccolo segnale di eccessiva gelosia di eccessiva morbosità attenzione controllo rispetto ai vostri movimenti quindi cercate di prestare attenzione ovviamente a persone che in qualche modo possono raccontarvi storie fantastiche ma in realtà non avere le stesse vostre intenzioni e intenzionalità inoltre il 6 di denari ci parla di chiacchiere di pettegolezzi quindi potreste essere oggetto di pettegolezzi da parte di male lingue che potrebbero perché no anche ostacolare per esempio la riuscita di ovviamente un vostro desiderio di un vostro progetto potete notare ragazzi che di nuovo in posizione di ostacolo esattamente come vi dicevo per il 5 di coppe ora per il 6 di pentacoli di denari il vero problema il vero ostacolo sono le persone che vi circondano quindi non emerge qualcosa in riferimento al vostro comportamento che potrebbe in qualche modo essere frutto magari di fraintendimenti o anche semplicemente di piccoli errori le persone che vi circondano possono vi ripeto creare confusione e insoddisfazione perché mentono perché sono persone magari impegnate perché falsi amici perché danno cattivi consigli oppure persone troppo pettegole quindi attenzione bene alle persone che vi circondano perché è già la seconda carta che in qualche modo ci riporta questo tipo di significato a questo punto però in questa posizione appunto andiamo ad occuparci dell'ambiente che vi circonda quindi amici parenti colleghi cerchiamo di capire se in qualche modo queste persone possano o favorire o in qualche modo magari generare tensione quindi creare degli ulteriori ostacoli potrebbero ma qui c'è la papessa allora la carta della papessa ci parla sicuramente di una donna ovviamente la consultante molto empatica una donna intelligente una donna che spesso non ha bisogno di guardare con i propri occhi perché comunque la realtà la vede la sente la percepisce non in questo mazzo nei mazzi più tradizionali la papessa generalmente ha gli occhi bendati perché perché la papessa non ha bisogno necessariamente di vedere con i propri occhi con i propri sensi la papessa vede anche attraverso la propria intuizione quel sesto senso che ha molto accentuato la papessa riesce a vedere oltre il velo vedete riesce a guardare in profondità riesce a capire subito chi ha di fronte a sé e quindi è il suo istinto che in qualche modo l'aiuta e che la guida continuate a farvi guidare da questo istinto perché la papessa è vincente è una carta molto potente nei tarocchi è una carta che ci parla di una donna saggia una donna matura a prescindere dalla vostra età quindi siete donne di gran pregio ragazze siete donne con un'esperienza alle spalle dolorosa difficile assolutamente ma da questo diciamo passato avete comunque tratto grandi insegnamenti siete una donna che ha sempre lottato molto perché la papessa lotta anche in maniera silenziosa a volte sola senza chiedere aiuto ma perché la papessa confida molto in se stessa perché grazie a questo sesto senso la papessa è come se riuscisse in qualche modo a prevedere i fatti la papessa è legata molto al segno del cancro al mio amato segno del cancro il cancro è un segno molto sensibile sì è vero siamo particolarmente umorali è vero siamo particolarmente lunatici perché no abbiamo un'emotività molto intensa ma anche appunto un sesto senso una capacità empatica e se vogliamo anche di anica molto accentuata è chiaro che poi quello che fa la differenza è come si utilizzano queste qualità a mio avviso uniche importanti profonde significative cerchiamo di usare queste nostre qualità per proteggere chi amiamo ma soprattutto noi stesse io ragazze lo ripeto sempre siate la vostra priorità la vita è vostra la felicità anche cercate di essere felici lottate per la vostra felicità la papessa sa farlo perché ha gli strumenti adatti e quali sono questi strumenti ve l'ho appena detto cioè l'intuito l'intelligenza l'empatia la papessa sa chi ha di fronte a sé magari non sa spiegare a parole perché ha quella determinata sensazione a riferimento a quella determinata persona o evento ma non sbaglia la papessa sa discernere sa scegliere è una persona matura che merita a suo fianco persone altrettanto mature non persone sciocche superficiali come queste identificate da 5 di coppe o da 6 di pentacoli la papessa merita rispetto perché ne dà prima di tutto una donna pulita una donna orgogliosa di sé fa bene ad esserlo è una donna che crede nella fedeltà che crede nell'amore è una donna che crede nei sentimenti profondi oltre che ovviamente nella seduzione perché vi ripeto la papessa è legata al segno del cancro quindi la femminilità la sensualità di un segno d'acqua quindi voi sapete di essere comunque amate ammirate di piacere questo sì ma non vi fermate solo a questo e questo vi fa onore perché cercate sempre quel qualcosa in più quella profondità entro qui la papessa sa arrivare ed entrare quindi continuate ad utilizzare queste vostre qualità questo è già diciamo un consiglio in più prima ancora di arrivare a questa posizione quindi per quanto riguarda il vostro ambiente l'ambiente che vi circonda cercate di andare oltre le menzogne cercate di come vi dicevo poco fa guardare bene all'ambiente che vi circonda le persone che vi circondano e cercate di tenere a debita distanza persone che non vi fanno bene che non fanno per voi perché la papessa ci parla di una donna che sa aprire gli occhi anche senza spalancarli perché sa comunque guardare con la visione che ha interiore della realtà una visione molto più accurata e attenta e precisa quindi cercate comunque sempre di procedere lungo questo percorso perché in realtà la papessa vi ripeto sa qual è il suo percorso e lo porta avanti è una donna forte è una donna coraggiosa ha un potere immenso il potere viene da dentro d'accordo quindi cercate di continuare su questo percorso facendo pulizia rispetto all'ambiente che vi circonda perché qui ci sono un po' di persone che vi ripeto o parlano troppo o comunque persone che non fanno per voi da un punto di vista sicuramente sentimentale caratteriale persone che vi ripeto si perdono magari anche in consigli che però obiettivamente potrebbero in qualche modo non fare per voi d'accordo siate la vostra priorità ragazze questo sempre a prescindere dalla stesa allora in questa posizione abbiamo appunto il karma diamo la parola anche al karma che in realtà sempre la parola l'ultima parola è sempre del karma nella nostra esistenza vediamo un po' quali rapporti il karma vuole ancora porvi d'innanzi qual è la strada che il karma ancora vuole mostrarvi quel filo rosso che magari può ancora legarvi ad una determinata persona o a più persone vediamo un po' ragazze qui abbiamo sei di spade allora non ci deve più essere nessun filo rosso allora vanno tagliati dei rapporti perché il sei di spade ci parla di qualcuno che si allontana da una situazione che obiettivamente non fa per lei il sei di spade non in questo mazzo ma ovviamente in mazzi più tradizionali è rappresentato appunto generalmente da una donna che si allontana in una imbarcazione diciamo di fortuna da una città in fiamme infatti la carta che precede il sei di spade è il cinque di spade che rappresenta un conflitto di grande importanza e dolore di conseguenza il karma vi porrà dinnanzi ad un bivio le carte di grado sei rappresentano una scelta esattamente come il sesto arcano maggiore che è la carta degli amanti o dell'innamorato che rappresenta la scelta per eccellenza d'accordo quindi voi vi troverete dinnanzi ad un bivio rimanere ancorata a conoscenze persone del passato oppure fare tavola rasa il karma ovviamente vi porterà dinnanzi a nuovi lidi perché il sei di spade ci parla di una persona che appunto si allontana quindi voi deciderete di intraprendere nuove strade vi ricordate questo tre di coppe è il vostro desiderio cioè quello di cambiare strada o cambiare strade perché no intraprendere più conoscenze nuove conoscenze quindi il sei di spade ci parla di una situazione che va a migliorare una situazione che però vi ripeto richiederà da parte vostra una presa di posizione importante in riferimento a delle situazioni del passato che obiettivamente dovete eliminare esattamente come il tre di coppe ci parla di viaggi di spostamenti quindi potreste effettuare dei piccoli viaggi dei piccoli spostamenti a seguito per esempio di un invito una passeggiata un weekend for riporta qualcosa di nuovo che potrebbe sicuramente rappresentare un momento di pace per voi il sei di spade ci parla anche di piccole comunicazioni una lettera per esempio una notizia che porterà per esempio a sentire la persona giusta in quel momento che vi permetterà di vi ripeto solcare nuovi mari per arrivare ad un nuovo futuro quindi la soluzione per voi sarà il movimento o un movimento pratico vi ripeto per cui effettuerete un viaggio uno spostamento che vi aiuterà a svagare la mente allontanandovi da dei problemi oppure un allontanamento emotivo da persone del passato quindi qui c'è proprio un allontanarsi da delle situazioni o da delle persone e il tentativo da parte di qualcuno perché no magari anche da questo individuo identificato appunto dalla forza un tentativo un messaggio una comunicazione porterà comunque a qualche frutto importante quindi qui c'è del movimento c'è un movimento in avanti che ovviamente porterà qualcosa di importante va verso un nuovo futuro sicuramente però vi ripeto ci sarà la necessità di muoversi nella giusta direzione verso cioè il nuovo quindi si tratta di intraprendere una nuova strada questo sarà l'inizio del vostro cambiamento d'accordo e questo vi porrà il karma quindi l'arrivo di una notizia di una nuova conoscenza oppure di una comunicazione che vi permetterà di aprirvi per esempio ad una nuova relazione una nuova conoscenza un viaggio uno spostamento che potrebbe in quel caso farvi conoscere una persona nuova o anche più di una persona nuova e l'allontanamento la scelta il bivio di appunto allontanarsi da situazioni del passato ormai inconcludenti e ovviamente conflittuali d'accordo quindi vedete come tre di coppe sei di spade il karma si sta allineando e si allinerà ai vostri desideri e questo è un elemento molto importante da notare in qualsiasi stesa perché nel momento in cui queste due posizioni sono fortemente contraddittorie l'individuo va generalmente verso incontro ad un periodo di grande conflittualità quindi il karma gli porrà d'innanzi delle situazioni difficili in cui lottare e modificare magari parte delle proprie ambizioni in questo caso invece si allineano perfettamente quindi abbiamo una novità un andare verso un'evoluzione nuovi lidi nuove conoscenze nuove comunicazioni allontanandosi dal passato d'accordo questa è anche parte ovviamente di una stesa tarologica quindi ogni posizione degli arcani nella stesa hanno un ruolo ben preciso non soltanto in sé per sé ma anche rispetto ovviamente a tutte le altre posizioni e quindi agli altri arcani vediamo a questo punto in questa posizione il vero e proprio consiglio degli arcani in questo caso un consiglio ovviamente disinteressato quindi come dovreste agire per appunto cercare di gestire al meglio la situazione e questa evoluzione che è presente sarà presente nel vostro futuro e qui abbiamo il re di bastoni e che bel futuro allora guardate che fascinante personaggio allora il re di bastoni rappresenta un uomo molto passionale vi ricordate la forza passione un uomo molto diciamo esteticamente evidente bello un uomo affascinante un uomo di spicco quindi che riveste sicuramente anche un ruolo importante per quanto riguarda appunto un posto nella società quindi una persona che essendo un re ricopre un ruolo importante da un punto di vista professionale è una persona che potrebbe grosso modo avere tra i 30 35 40 45 anni magari anche qualcosa in più è una persona quindi matura è una persona intelligente è una persona che ha pieno controllo dei propri desideri è una persona autorevole non autoritaria è una persona dunque giusta onesta è una persona che potrebbe aiutarvi perché generalmente il re di bastoni è un uomo generoso potrebbe essere appunto un capo proprio come vi dicevo con la carta della forza un superiore quindi una persona di spicco vi ripeto che potrebbe aiutarvi ma è ovviamente un personaggio di bastoni quindi è una persona che ovviamente è molto attratta da voi i bastoni rappresentano l'elemento fallico per eccellenza quindi è sicuramente una persona che vi desidera che vi apprezza una persona che ovviamente si lascia guidare dal proprio impulso ma che comunque sa però anche e saprà in futuro tenerlo ovviamente sotto controllo è una persona che potrebbe rappresentare per voi una sorpresa perché l'arcano del re di bastoni ci parla di prossimi eventi quindi molto vicini perché parliamo di bastoni bastoni e coppe sapete che rappresentano generalmente tempistiche che vanno da pochi giorni a qualche settimana al massimo persone che vi porteranno notizie e anche un incontro inatteso quanto ovviamente per voi molto fortunato quindi lieti eventi liete notizie una persona che vi farà capire che è realmente interessata a voi una persona che sicuramente crede in voi una persona che vi ripeto potrebbe volervi aiutare anche magari da un punto di vista professionale per poi magari iniziare con voi una frequentazione più importante perché no potrebbe essere una persona legata a voi da un punto di vista professionale cioè potreste essere colleghi lui per esempio il vostro capo vostro per esempio supervisor oppure voi potreste recarvi da questa persona per una consulenza professionale potrebbe essere il vostro per esempio avvocato piuttosto che il vostro medico oppure lui potrebbe recarsi da voi per una consulenza professionale d'accordo quindi sicuramente è una persona valida è una persona molto vitale è una persona pulita è una persona onesta che però ovviamente dà un grande peso e importanza all'aspetto diciamo erotico di un rapporto perché è una persona molto virile che ama i piaceri sani della vita è chiaro che vi ripeto vi porterà a breve delle notizie ci sarà un incontro particolarmente soddisfacente e delle trattative che andranno a buon fine tra l'altro il re di bastoni come anche tutte le altre carte di corte di bastoni rappresentano individui che possono appartenere ai segni di fuoco quindi ariete leone sagittario cosa vi dicevo con la carta della forza per cui vi ho citato il leone e l'ariete oppure potrebbe avere l'ascendente oppure il tema natale di questa persona potrebbe essere proprio ricco di questi segni zodiacali nella maggior parte dei pianeti che strutturano la personalità di un individuo quindi venere luna mercurio e marte cioè per esempio potrebbe avere marte e venere in leone e per esempio l'ascendente in ariete quindi una forte con presenza di segni di fuoco perché vi ripeto è una persona molto coraggiosa è una persona temeraia che non teme nemici ostacoli anzi è una persona che arriverà a voi cercando di superare questi ostacoli perché ha voi come obiettivo e avrà a voi come obiettivo come tutti i personaggi di bastoni può rappresentare dei viaggi e degli spostamenti quindi una persona che potreste incontrare vi dicevo appunto con il 3 di coppa e il 6 di spade durante uno spostamento o una persona che potrebbe spostarsi per lavoro e quindi raggiungervi avvicinarsi a voi questo è il consiglio degli arcani cioè date in qualche modo udienza a questo personaggio a questo uomo che entrerà a far parte della vostra vita entro appunto breve tempo una persona che sarà importante una persona valida e che potrebbe sicuramente ricoprire per voi un ruolo molto importante quindi chiaramente questo re di bastoni ci riporta sicuramente alla memoria l'individuo identificato con la carta della forza per cui hanno molte somiglianze quindi qui c'è sicuramente qualcuno che entrerà a far parte della vostra vita una persona importante tra l'altro tra poco tempo quindi pochi giorni massimo qualche settimana vediamo a questo punto in diciamo ultima analisi quindi vero e proprio futuro come procederà appunto il vostro ambito sentimentale rispondendo alla domanda iniziale quindi effettivamente al di là di questo re di bastoni chi arriverà nella vostra vita a risvegliare il vostro cuore e ovviamente anche la vostra passione quindi il vostro corpo vediamo un po' meraviglioso e qui abbiamo il dieci di coppe sì la risposta è sì arriverà qualcuno certo anzi qualcuno che vi ripeto risveglierà non soltanto il vostro corpo la passione ma anche il vostro cuore perché il dieci di coppe ci parla proprio di un individuo che vi farà innamorare dieci di coppe è una carta di coppe parla di amore parla di sentimenti parla di realizzazione parla di successo e soprattutto carta di grado dieci ci parla di chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo quindi sicuramente ci parla di una nuova conoscenza ci parla di successo ci parla di un grande successo sentimentale ci parla di un cambiamento nei sentimenti molto importante che porterà alla intesa perfetta con una nuova persona quindi sicuramente incontrerete la persona giusta che però vi imporrà come vi dicevo con il sei di spade una novità quindi chiudere con il passato per aprirvi al nuovo ovviamente ci parla di vantaggi di gratificazioni di bellezza anche fisica cioè voi vi sentirete anche più forti vi sentirete più belle vi sentirete ancora più piacenti qui ci sarà passione qui ci sarà amore romanticismo vi ripeto feeling intesa armonia quindi avrete tutta la stima l'apprezzamento l'amore la stima di cui meritate tutti i pettegolezzi verranno tacitati e gli ostacoli verranno eliminati il dieci di coppe quindi ci parla di una relazione quindi non ci sarà solo una mera conoscenza qui inizierà una vera e propria relazione che porterà sicuramente a grande gioia parliamo di coppe quindi parliamo sicuramente di tempistiche veloci quindi questa conoscenza e dunque questa frequentazione inizierà vi ripeto entro poco tempo qualche giorno qualche settimana al massimo un mesetto circa ed è un rapporto che procederà però ovviamente a lungo tempo e per lungo tempo fino ad arrivare ad una vera e propria storia d'amore che potrebbe appunto giungere poi ad un matrimonio una convivenza perché vi ripeto che il dieci di coppe ci parla di piena realizzazione di quelli che sono i progetti i desideri i sentimenti il dieci di coppe ci parla però anche ci dà anche una importante indicazione per quanto riguarda per esempio l'ubicazione dove voi potreste incontrare questa persona e ci parla di luogo di residenza o comunque ambiente natio o ambiente quotidiano cioè voi potreste conoscere questa persona nel caso in cui per esempio voi vi recchiate a trovare dei parenti o per esempio il luogo in cui siete vissuti durante l'infanzia i vostri genitori la vostra città di nascita oppure potreste incontrare appunto questa persona nell'ambiente e negli ambienti che frequentate quotidianamente o questa persona potrebbe raggiungervi vi ripeto a seguito per esempio di uno spostamento professionale nell'ambiente in cui voi abitate potrebbe per esempio traslocare venire ad abitare vicino a voi o potrebbe essere un nuovo collega perché il 10 di coppe vi ripeto ci parla proprio o di ambiente legato alla nascita del consultante quindi potreste conoscere questa persona vi ripeto grazie anche a parenti genitori fratelli sorelle che potrebbero fare da intermediari e farvi conoscere questa persona oppure è una persona che comunque giungerà inaspettatamente come una grande sorpresa da parte del karma nella vostra quotidianità in luoghi che voi già frequentate quotidianamente d'accordo? ovviamente il 10 di coppe ci parla quindi del focolare domestico quindi è una persona che frequenterà casa vostra e voi casa sua è una persona che vi aprirà le porte del suo cuore e anche della propria abitazione ma vi ripeto una persona che potrebbe anche appartenere al vostro ambiente familiare quindi potrebbe far parte delle conoscenze dei vostri stessi per esempio genitori fratelli sorelle o comunque parenti d'accordo? è una persona matura sarà una persona saggia una persona che vi saprà ricambiare nei sentimenti nella progettualità nell'amore nel romanticismo quindi sicuramente non rimarrà soltanto una frequentazione ma diventerà una vera e propria relazione ed è una persona vi ripeto che potreste conoscere entro pochissimo tempo d'accordo? quindi la risposta ovviamente alla domanda è meravigliosa a questo punto però sono particolarmente curiosa di appunto utilizzare i nostri oracoli del cuore di Isabel Seaf e cerchiamo di capire a questo punto qualcosa di più in riferimento ovviamente a questo perché no re di bastoni e anche questo dieci di coppe cerchiamo cerchiamo dunque di estrarre appunto due oracoli per cercare di avere delle indicazioni in più in riferimento a questa nuova situazione che obiettivamente è assolutamente in arrivo nella vostra vita e ovviamente anche entro breve tempo allora dunque qui abbiamo la carta dell'anello e del regalo e in questa posizione abbiamo la carta della sorpresa del nove lunio allora come vi dicevo vedete che le tempistiche sono molto brevi addirittura vi ripeto si parla di sette giorni quindi una decina di giorni al massimo il karma vi farà un gran regalo ossia vi farà arrivare notizie notizie che magari voi non vi aspettate perché è una sorpresa questa è la carta proprio della sorpresa che poi ci viene ribadito successivamente anche in quest'altra carta vi arriverà appunto una notizia una conoscenza qualcosa di nuovo da parte di una persona che verrà posta sul vostro cammino il cammino della vostra vita e che avrà per voi un potenziale da un punto di vista affettivo ed emotivo molto importante quindi il karma sta per donarvi qualcosa qualcosa che vi permetterà di nuovo di credere nell'amore nella passione nel rapporto di coppia quindi entro pochissimo tempo voi sarete di nuovo pervase da una forte energia energia dell'amore quindi c'è già un'evoluzione in atto e non dovrete neanche aspettare tanto tempo quindi arriverà una sorpresa un segno un incontro un messaggio qualcosa che vi porrà d'innanzi ad un nuovo ciclo di vita ovviamente un regalo una sorpresa che può manifestarsi in molti modi può essere un messaggio sui social un like proprio da quella persona che magari a voi è sempre piaciuta a cui pensavate di non piacere che invece si scopre avere grande attenzione in voi oppure vi ripeto l'incontro giusto con la persona giusta un messaggio una telefonata la carta della sorpresa ci parla di desideri che si avverano ma in modo completamente diverso rispetto a quello che o vi sareste aspettate perché la carta della sorpresa ci parla proprio di qualcosa che avviene in maniera meravigliosa sorprendente imprevedibile qualcosa di molto importante per esempio può essere una dichiarazione vi ripeto che magari stavate aspettando da tempo che voi stavate sognando immaginando in un determinato modo ma che invece avverrà in maniera completamente diversa quindi ovviamente consultando il calendario lunare al momento in cui guarderete questa stesa andate a guardare questa stesa il prossimo novilunio porterà un evento un segno molto importante nella vostra vita sentimentale quindi un segno lo avrete già entro poco tempo si sta parlando di una decina di giorni al massimo può essere ovviamente anche qualcosa di molto piccolo e poi si andrà ovviamente verso un cambiamento importante d'accordo quindi il novilunio sarà un momento di svolta qualcosa che sarà molto importante a cui voi presterete la dovuta attenzione e qualcosa che generalmente accadrà vi ripeto entro tre giorni prima o tre giorni dopo il riferimento al prossimo novilunio tutto accadrà in maniera naturale è il karma che vi sta ovviamente offrendo questa nuova opportunità sorprese meravigliose quindi siete sulla buona strada l'arrivo di una nuova persona è già sulla strada quindi sicuramente arriverà la persona giusta per voi ma magari sarà una persona diversa rispetto a come potresti averla immaginata o un incontro che avverrà magari in maniera diversa rispetto come per esempio ve lo siete sempre immaginato o comunque quella persona che vi porterà quel messaggio persona dalla quale non vi sareste mai aspettate per esempio un'attenzione del genere quindi vi ripeto qui ci sono delle novità molto importanti novità che vi porteranno ad una nuova sorpresa e quindi ad una nuova evoluzione quindi prestate attenzione ai prossimi giorni o comunque in particolar modo al prossimo novilugno per cui ci sarà proprio un'evoluzione importante in ambito sentimentale ci sarà quel dettaglio vi ripeto quel messaggio quella telefonata quella dichiarazione quell'incontro che vi permetterà di ricominciare a sognare e ovviamente vi ripeto qui abbiamo l'ingresso di questo re di bastoni e ovviamente questo dieci di coppe che ovviamente entro il prossimo mesetto vi farà di nuovo tornare a credere nell'amore qui c'è un'energia molto positiva in arrivo e ovviamente tenete ben d'occhio questo re di bastoni che è sicuramente una figura molto molto importante in chiave proprio di una vostra evoluzione da un punto di vista sentimentale portandovi però ovviamente nei mesi successivi ad un'importante presa di posizione quindi ad una vera e propria scelta anche soprattutto nel caso in cui siate persone già impegnate d'accordo? quindi un incontro importante che farete entro poco tempo ma che vi porterà ovviamente nei mesi successivi ad una presa di posizione ad una vera e propria scelta e successivamente appunto ad una vera e propria storia d'amore d'accordo? di conseguenza è stata una stesa molto bella come dico sempre mi raccomando cercate di credere nel karma perché ha già in serbo per voi delle ottime sorprese a presto grazie grazie